Ciao ragazzi! Oggi un piccolo video, ma secondo me molto molto interessante. Perché non teniamo il frigo acceso d'estate sulla nostra barca, piccola o grande che sia? Guardate che in realtà il frigo non è che consumino proprio così tanto. E oggi, in questo video, analizzeremo tre cose. Quanto consuma il frigo? Quanto consuma il frigo in un totto di tempo, in un totto di giorni? Che batterie bisogna avere per poter far funzionare un frigo sempre durante l'estate? E che pannelli solari dobbiamo mettere sulla barca per mantenere comunque le batterie sempre cariche? Non perdiamo altro tempo. Andiamo avanti con il video. Dovete scusarmi, ma la mano è quella che è e quindi mi sono fatto un po' aiutare. Iniziamo subito. Quindi in questo video vedremo quanti pannelli servono, di che potenza. Avremo bisogno in barca sicuramente di un regolatore, di una batteria che potrà essere litio o AGM ed è il nostro bellissimo, interessantissimo frigo. Qui ho messo dei fusibili, ma per quanto riguarda l'impianto elettrico, sul canale trovate dei video specifici, magari che ci saranno più utili per analizzare meglio l'impianto come deve essere fatto dal punto di vista elettrico. Dimensioni dei cavi, dimensioni dei fusibili, eccetera. Allora, la domanda iniziale. Quanti pannelli per far funzionare il nostro frigo? Beh, prima di tutto bisogna calcolare quanto consuma il frigo. Questa è una cosa fondamentale. Quindi, anche quanto grande deve essere la batteria. Ovviamente la batteria deve essere sufficientemente grande per far funzionare il frigo per un certo numero di giorni, senza paura di tornare in barca e trovare la batteria scarica. E in più, quanti pannelli sono necessari, a seconda della zona di dove abitiamo, dove teniamo la barca, per far caricare la batteria in un giorno. Ma durante il video capirete meglio perché vi dico questo. Ma prima di tutto, prima di iniziare, come al solito, vi devo chiedere, prima di tutto, di mettere un like, almeno sulla fiducia, casomai dopo lo togliete se non vi piacerà il video. La seconda cosa, iscrivetevi al canale. Siete in tantissimi che seguite sempre i miei video, ma non fate l'iscrizione. Fatela, perché se no, magari tanti contenuti non vi vengono proposti. Terza cosa, attiva anche le notifiche. Anche questa è una buona norma, è sicuramente utile. Quindi mi raccomando, fate queste tre piccole cose, sarete sicuramente d'aiuto anche per il canale. Ma adesso iniziamo. Allora, quanto consuma il frigo? Io, per esempio, ho preso un frigo standard. Ho scelto un Isotherm Cruze CR42. Se avete un altro frigo, basta che andate a prendere la scheda tecnica e vedete i dati del frigo che possedete. Oppure potete scegliere di comprarne uno e ricavare i dati per questo frigo. L'alimentazione può essere a 12-24 Volt, ma in questo video parleremo soprattutto dei 12 Volt. La capacità di questo frigo è di 42 litri. È un buon frigo, è un ottimo frigo. Questo perché? Perché consuma veramente poco. A 12 Volt, quando è acceso, consuma 2,7 A. La potenza quindi giornaliera, se fosse sempre acceso, si calcola come sempre Volt per Ampere per 24 ore, sono 750 Watt al giorno. 750 Watt diviso 3 sono 250 Watt. Perché faccio diviso 3? Perché mediamente i frigo rimangono accesi un terzo del tempo della giornata. Due terzi sono in stand-by. Per i nerd, qui ci sono i calcoli proprio esatti. Prima lì ho fatto degli arrotondamenti. Per chi è interessato può andarsi a vedere i dati esattamente giusti. Allora, cominciamo a calcolare la capacità della batteria. In questo caso un AGM è quindi 12 Volt. Consumo stimato 275 Watt ora al giorno. Questo è il dato che abbiamo ricavato prima. L'autonomia di 4 giorni. Perché se ci sono giorni di pioggia o di nuvoloso, comunque il nostro frigo deve rimanere freddo. Io ho stimato un massimo di tempo di 4 giorni. di utilizzo del frigo. Bisogna ricordarsi che le batterie AGM non devono essere scaricate più del 50%. Quindi, 275 Watt al giorno per 4 giorni fa 1100 Watt ora. In 1100 Watt ora volte 1,5, cioè noi facciamo il calcolo di quanto deve essere la batteria, che deve essere quindi 1,5 volte il valore del consumo giornaliero. Quindi, 1650 Watt ora. 1650 Watt ora diviso i 12,5 V della batteria fa 132 A. Se noi scegliamo una batteria AGM e vogliamo alimentare quel frigo per 4 giorni ed arrivare al 50% della carica della batteria, che è una cosa fattibile, dobbiamo avere una batteria da almeno 132 A. E se abbiamo una batteria a litio? Abbiamo sempre il consumo stimato di 275 Watt ora al giorno. Vogliamo sempre un'autonomia di 4 giorni, però in questo caso la scarica potrà essere tranquillamente anche del 90%. Potrebbe essere anche il 100%, ma teniamoci un margine. Quindi, 275 per 4 giorni uguale 1100 Watt ora. 1100 Watt ora per 1,1. Abbiamo bisogno di una batteria di 1210 Watt ora. 1210 Watt ora diviso i 12,8 V che sono i volt classici di una batteria a litio fa 94 A. Questo vuol dire circa una batteria da 100 A. Con una batteria da 100 A al litio possiamo mantenere il frigo acceso per 4 giorni consecutivamente. E i pannelli solari? Allora, i pannelli solari io li ho calcolati per rifare la carica completa della nostra batteria in un giorno. Cioè, se dopo 4 giorni di brutto tempo c'è un giorno pieno di sole, dobbiamo essere in grado di ricaricare completamente la batteria. C'è un sito che vi metto anche in descrizione che serve proprio per calcolare l'irradiazione, cioè quanto si riesce a generare di energia praticamente al metro quadrato per pannello solare data la posizione. Quindi uno sceglie la città tra Trieste e Catania o Palermo sicuramente l'irradiazione è diversa. Sul sito c'è scritto tutto molto molto bene ed è molto facile da usare. Quindi io vi consiglio di andare a fare un giro e potete capire più o meno esattamente quanto riesce a generare un pannello solare in una giornata di sole media in un determinato periodo dell'anno. Perché anche lì, ovviamente, in agosto l'irradiazione è molto diversa rispetto a dicembre. Comunque, io ho fatto i calcoli per un pannello solare da 200 Watt 12 Volt e ovviamente ho scelto come zona Trieste. Il periodo che ho preso in analisi è giugno, luglio, agosto. Trieste, in giugno per 200 Watt di pannello solare genera circa 30 KW in un mese. In luglio 31 KW, un po' di più. In agosto 27 KW, un po' meno. Ma questi sono valori al mese. Quindi io devo dividere per i giorni di ciascun mese. In questo caso il risultato è che in giugno avrò 1 KW al giorno. In luglio avrò 1,03 KW al giorno. In agosto avrò circa 0,9 KW al giorno. Come vedete, siamo molto vicini al valore delle batterie che ci serve per la nostra diciamo barca per riuscire a recuperare in una giornata di sole le batterie completamente scariche. Con un pannello solare da 200 Watt 12 Volt a Trieste o circa 1 KW al giorno. Più che sufficiente per caricare le batterie e mantenere quindi il frigo acceso. Come hai potuto vedere, è assolutamente possibile tenere il frigo acceso. Ed è anche, secondo me, molto comodo perché d'estate per chi ha le barche piccole che è abituato a tenere sempre tutto spento portarsi sempre l'acqua fredda da casa le bottiglie di ghiaccio oppure appena mettere in moto il frigo e aspettare che questo si raffreddi è veramente una scocciatura pazzesca. Basta aggiungere dei pannelli solari ovviamente ci vogliono dei pannelli che abbiano almeno 150-200 Watt di potenza e devo dire che potrebbe andare bene per tutta Italia. Avere un piccolo frigo installato possono essere anche quelli a pozzetto basta controllare i dati di assorbimento una una batteria a litio che sia da 100 A 150 A o 200 A e abbiamo risolto tutti i nostri problemi. Andremo al mare sempre con le bibite fresche o con la frutta la verdura o quello che ci portiamo sempre da mangiare. Ci vediamo al prossimo video ciao ragazzi!